E allora buongiorno a tutti, buongiorno Pier Giorgio, saluti a tutti, dopo tanto tempo di assenza mi faccio rivedere purtroppo ho avuto un po' di problemi familiari, un po' di casini, comunque insomma abbiamo ripreso le attività in campagna abbiamo decespugliato praticamente tutta la campagna e abbiamo già seminato qua cipolle, aglio, scalogno e piselli e è un insalato, un po' di insalatina estiva questa qui, poi qui oggi ho preparato la buca per le carote ho fatto una buca di 30 centimetri e poi riempiendola con il mio compost che mi preparo io e un po' di letame e anche un pochettino di torba, li ho già seminati, ho seminato qualche striscia di prova che ho preparato io dalla carta igienica e poi a spaglio e qui ho già passato moto zappa sotto la seretta dei pomodori e di qua poi andrò a seminare le patate e tutto il resto, ho già pulito tutta l'erba ho potato anche tutti gli alberi, anzi mi resta ancora un fico da potare come si può vedere c'è la signora là che lavora e dietro di lei c'è tutte le ramaglie delle potature insomma cominciamo la stagione anche quest'anno, un saluto a tutti